Denunciata dalla polizia una nissena di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è segnalato amministrativamente un 24enne di nazionalità senegalese per uso personale di droga durante un servizio di controllo effettuato dai poliziotti della volante di zona all'interno della villa comunale Cordova. Alla vista della pattuglia i due hanno manifestato un forte disagio che ha insospettito gli agenti. Alla donna nel corso della perquisizione all'interno della borsa è stata trovata una bustina in cellofan contenente cocaina, all'uomo invece una bustina di marijuana e uno spinello. Le perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei due controllati hanno avuto esito negativo, lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.